Ciao bimbi, salute bimbi. Ciao bimbi. Guardate come Pietro si fa l'infovir wash. Dai, prendere solo, versare il prodotto, pieno pieno pieno, posare il prodotto, chiudere con il tappo, no, il tappo. E poi Pietro si fa la pompetta nel nasino. Come si deve stare? Fermo la testa. E poi si fa il prodotto. 3, 2, 1. Salute bimbi. Dio tutto fatto. Saluta. Salute.